Sto provando davvero tutti i dolci di Disneyland eh E quante calorie nei commenti, vediamo Buvizzette, 40 euro Buongiorno, ore 6 e 10 E ieri sempre abbiamo dato la brillante idea di andare a Parigi Per vedere cosa c'è realmente da mangiare a Disneyland Così Sascha, buongiorno Hai mai guardato il tag di Disneyland Parry Food su Instagram? Ora l'hai guardato, guarda quanto cibo c'è Noi stiamo andando a Disneyland Solamente per provare tutto il cibo di Disneyland Io mi contentavo Certo però, buoni dolci di Disneyland Parry eh Ma vuoi mettere quel biscotto poteco di Bufaudazzo? Che è il sconto nel primo link in descrizione Comunque ci aspettano solamente 9 ore di macchina Perché lo sto facendo Prima pausa Siamo già arrivati in Francia Ma Sascha doveva fare pipì La prossima canzone È uno dei miei cartoni preferiti Sappiatelo La partita della vita Superato il traforo del Monte Bianco Siamo ufficialmente in Francia Perdoniamo Non riesco Aiuto Non riesco Aiuto Che è la fine del viaggio È bene il viaggio Non la destinazione Ci riparte Anima alla guida per la prima volta Che lo vedo in vita mia guidare La prima volta Ho preso la patente oggi Cosa? Ho fatto un pit stop Per fare pipì Ma guardate cosa ho trovato In quale modo potremmo ucciderci oggi? E perché proprio questo? Avete a girare Dai Aspetta ci penso io Vediamo se saprà davvero di pistacchio Sa solo di mandorla Dovrò trovare dei macaron buoni a Parigi Buon appetito Le nuggets Chiaramente che si trovano anche in Italia Il fish burger L'insalatina Perché almeno ci fa sentire meno L'insalatina Per stare leggeri Comunque nella foto Era palesemente diverso Non so esattamente di McDonald's Tutto questo ancora dobbiamo arrivare a Parigi E già ho mangiato di poco 2000 calorie Dopo 10 interminabili ore Siamo arrivati Abbiamo lasciato la macchina dal parcheggio Non so se ve lo ricordate Ma sono già stato a Parigi A gennaio Ma in quel mese Stavo facendo il mese da vegano Quindi non ho potuto mangiare niente Ma sono venuto qui apposta Per mangiare Provare qualcosa Ma soprattutto provare quello che c'è da mangiare A Disneyland Paris Iniziamo Anche se dal tavolo andiamo sulla torre Eiffel E a Disneyland Ci andiamo domani Indovinate qual è il primo posto Che andiamo a visitare a Parigi Il montagnier bianno No? Una cosa di ferro Messa in mezzo alla città No! Ti sbagli Non la torre Eiffel I macarons I migliori macarons della città Ed ecco dove dobbiamo prendere i macarons Pierre Hermes Paris Uno di questi Trovo Un altro? Un altro? Un altro di questi Io te lo dico Sarà stata pure gentile la tipa Ma questi Orgoglio italiano Ci hanno scamato i baci di dama Forse cosa è sta Animizzazione dei baci di dama Non è così tanto più buono Di quello del pranzo Comunque Vedi Il cioccolato oggi è più buono Ma quanto ce n'è dentro A quanto pare in Francia niente pistacchio Questo cioccolato è veramente molto buono Prima di andar via Mi manca ancora da provare la baguette Perché l'ultima volta che sono venuto Ero vegano e ho preso quella integrale Stavolta potrò prendere la baguette normale finalmente E la mia memoria fotografica Mi dice che era qui da qualche parte Sono troppo forte bro Eccolo qua Io non prenderei questa la baguette francese Qua in Francia hanno anche questa particolarità Ti danno i dolci con le vespe Sono più gustose Stiamo già portando avanti Ma cosa? Qua c'è anche la versione qua Con Ci sono proprio abbeverando queste vespe Ne voglio tre Sono appena uscite le baguette Dovrebbero anche essere calde Fumiamo un po' la scella Ora si che mi sento in Francia Non ci riesco È bella calda Ma è come quella toscana Non ci sale Che cazzo è sedi Non ci gioco il cibo In Coyoin C'è vento sulla torre Eiffel Penso che la torre Eiffel L'abbiate vista in tanti video su YouTube Quindi passiamo direttamente O alla cena O a Disneyland Perché comunque secondo me A Disneyland durerà tantissimo Questo video Perché vi sto facendo vedere tutto il viaggio Da sotto quando si illumina Con questa luce È molto molto carina Approvata Sfighati Sfighati Dobbiamo andare a Disneyland Scusa mi sono messo questa maglia apposta No thanks Sono un bimbo felice Siamo andati a Disneyland Che bello Sascha si è rotto la spalla Tu sei un po' sfortunato E ti sei rotto il telefono in Sardegna Ti sei rotto la spalla Ma non è vero Fa freddo comunque Molto bello è l'entrata Ma quando si mangia Sei pronta a mangiare? Sì c'è tanta fame Andiamo a mangiare qualcosa Ho una fame lupo Il primo negozio con del cibo Andiamo questi Ok Questo lo voglio One of this And one of biscuits Se ne vuoi provare quel bloccolà No quel bloccolà mi sembra evasivo Ha sdiviso tre Abbi fiducia A fine giornata Questo crembiule viene a casa con me Avvertiti tutti eh La prima cosa che mangieremo a Disneyland È questo biscotto E io sto per mangiare Topolino Ma che stasera è buono È un classico biscotto americano Tu chissi americano Super super burroso E ovviamente abbiamo anche la versione marshmallow Che bello è Stacca le orecchie vai fra Ho appena il morso mini Veramente 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 gommoso Marshmelloso lo odio Ciao Mi piace il marshmallow Assaggiamo anche questo tocchetto di cioccolata Anna abbondano un po' di zucchero eh Vado a prendere altri due Ho già capito che a fine giornata arriverò grasso Che fai non ti fermi a prendere un muffin E quello dovrebbe essere quello del libro della giunga Che se sbaglio voi correggetemi nei commenti E sono quasi sicuro che quel personaggio si chiami Bachera Vi prego guardate quanto è carino Un po' disomiglia Dai sto mozzico a Bachera E' una marmellata di abicocca Deve essere abicocca E' un biscotto E' poco zuccherato questo E' una crostalina Mi impara foodblogger Senti quanto è cioccolatoso Buon buon Ne va a fattugioste qualcosa Insomma Giriamo stiamo solo a mangiare Volevo dire a tutti Che io sono stato al castello originale Da dove ha preso a spunto Walt Disney E questo sono io a fine giornata So che non è molto Disney Ma io voglio un hot dog Assolutamente voglio questo hot dog Sarà un semplice hot dog Ma te lo puoi sentire con questa scatola E' bellissimo Guarda voi che bello dentro Certo costa 9 euro Noi c'è anche Coca Zero E patatine queste qua Buon Disneyland Food Porn E' buono Guarda Fucile innovativa Paladine dentro hot dog Da quel fede piccante Ovviamente è buono Comunque stai tutto il giorno Col caldo Con la mascherina addosso E A momentà dovevo respirare Questo qui è il ristorante A tema Re Leone Se prende in buco senza fila Perché sono foodblogger Entriamo senza pagare Come calciatori di serie Lì c'è Timon E lì c'è Pumba Devo ordinare ma non so cosa prendere Il Re Leone ci consiglia Delle polpette di manzo Con del riso Uno con le verdurine Non era così nello schema Comunque questa è tipo Cane di kebab Condita Meglio di quelle del mac di ieri Pollo di cacao E c'è un bellotto col cocco Col mango col cocco Ufficialmente sto mangiando Nella giungla Passiamo al prossimo ristorante Soprattutto col che di polpetta Mi chiamo il brap Leone non voglio fare C'è che hai scelto il ristorante? Io Avesse esorato Io Io ho togliato la mia Unica ristorante Avesse esorato pure a te Assaggiare la polpetta vai Se dici che è buona Mi incazzo Te lo giuro Ma a parte di scherzo Sa veramente di merda Ecco Ma ci massaggia un mango qua Ma tu le dici Ma non si sta Buona l'altra E scopri la mano A questo punto vorrei Spesso una ciambella In favore del locale Perché questa qua Col mango è buona Mmm Ma coglioni Proviamo a recuperare Col milkshake al mango Recuperiamo questo Questo gusto brutto Che ho in bocca Vendono anche i Ben & Jerry però Oh che benessere Prima il salato Poi il dolce Poi il dolce Il salato E poi il pollo fitto Il pollo fitto almeno è buono Difficile di farlo male Poi ovviamente è buono Il pollo fitto così è più buono È buono Con il pollo dolce Eh Pollo al fior di latte Pollo al latte di cocco Assaggiamo quello Al fudge brownie Io lo davo più buono il Ben & Jerry E qui Al vaniglia Giuro Pollo di entrambi Siamo intolleranze al lattosio Sarà una perfetta nottata Almeno a 200 km a casa Non c'è più l'intolleranza Oggi c'è la terza guerra mondiale Quella che avevo io E se lascio in macchina Ah Tutti dolci Si sta ribaltando la situazione Cioè non mi va di mordere Simba Mordi Simba È più buono che un McTost comunque E che fai Non ti fai un altro dolcetto Comunque mi stai vedendo Mangiare tutta sta roba Ma lo mangiare nel giro di Tipo un'ora E' buono C'è a coppia Cioccolato Pagli Spagna Ma cosa mi hai portato? Sto provando davvero tutti i dolci di Disneyland Ci stiamo provando Esatto Questo qui invece è più un biscotto È una crostatina Ha lo stesso sapore di Baghera Solo con una consistenza più croccante E al cioccolato Comunque dovrei averla mangiata tutta Posso dirvi che era una crostatina 100% E ora andiamo a fare quello Perché vogliamo vomitare tutto Dobbiamo vedere Qua davanti Dopo averla fatta E aver perso le orecchie Che mi sbattiva a destra e a sinistra Me l'ha distrutte Ora so dirvi che è uguale al mammut Riccardo È la fila più lunga della mia vita Ma ha detto che toglie il cappello Tizio Ma sei pazzo Ma visti che i capelli fra Non ci vedo un cazzo C'è un po' di luce Comunque la parte figa delle giostre Qui a Disneyland Non è tanto la giosta in sé L'adrenalina Ma tanto la caratterizzazione Di tutto quello che c'è intorno Cioè è tutto super tematizzato Abbiamo appena fatto la giostra A tema Star Wars E quanto cacchio È stato bello Avere la marcia imperiale Tutto il tempo Nelle orecchie Oh che bello Star Wars Ho scoperto che qua dentro C'è un panino Che ha stampato Il segno di Bibiotto Ora vi faccio vedere Non posso non prendere Almeno una cosa di Star Wars Da mangiare Eh Ma dovrebbe essere Il dolcetto Bibiotto Non lo so cos'è Il Bibiotto dessert Ma non so cosa sia Sascha per risvegliarmi Ho preso due caffè espressi Volevi dire due brocche Due brocche di caffè espressi Anche il tuo non mi sembra piccolino C'è una forma di Bibiotto Questo video l'ho preso Esclusivamente per questa bruciatura La Bibiotto Non funziona bene il marketing Di Svelano È vero Non chiaro solo questa cosa Dai assaggio sto cyberburger Può esserci la merda fritta dentro Ma se c'è la caramellata Va tutto bene Infatti è buono È buono vero Comunque il pane E l'arancione A un buon odore Ho la lingua spinata Dal caffè di merda Aspetta Non lo capisco bene È buono Ho appena assaggio il caffè Non lo chiamerò mai più caffè Il mio espresso Comunque preferisco pagare 50 centesimi l'acqua Per questo Il dolce Bibiotto Sono sicuro che sarà Un bignè È buonissimo È buonissimo Comunque Comunque ufficialmente Il dolcetto che ho preso poco fa La fragola di Bibiotto Era il dolce più buono Della giornata Fragola buonissima Super fresca dentro Buon sapore anche La briochina Ovviamente Ovviamente buono Comunque scherzando E ridendo sto riuscendo a mangiare Tutto quello che vado a offrire Disneyland L'unica cosa che non sono riuscito A trovare ancora È la pizza Quella a forma di topolino Cioè io voglio mangiare la pizza A forma di topolino Qui Io voglio quel Darth Vader Tipo pancake Con la nutella La regola qual è? Non gli spingi No È fritto E con la nutella È buono Sono quasi sicuro Che questo sia uno Stormtrooper E non Darth Vader Se lo guardi bene Il colore di uno Stormtrooper Insomma È un waffle Questo È più buono Del dolcetto Di poco fa Ma è un waffle Con la nutella Ma è normale Che è più buono Quanto è buono Dalla 10 4 È nutella fra Cago per terra Metto la nutella Mangio Buono 6 Comunque Io ti ordino Darth Vader E mi porti uno Stormtrooper Mi sento un attimino Truffato È salvato che c'era la nutella C'è salvato Prossimo obiettivo del food Stanno chiudendo No zio apri Volevo quello io Per favore Me lo fai lo stesso Por favor Il tour food Sta finendo Anche perché Sta chiudendo tutto Sono le 19 e 20 Guardaranno è meglio Mi vedete Di sempre la sua Non so se c'è altro La mangiare Raga La pizza Non so dove si possa prendere No 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 Dobbiamo trovare Andiamo a chiedere in giro Fra scusa Sto a cercare questa Scusa No Scusami Sto a cercare questa Di là Di là Quanti cinque Frede mo Secondo me no Forse ho trovato Se lo trovo chiuso Impazzisco Vorrebbe essere questo qui Ma sono quasi sicuro Al 99% Si è chiuso Qui dice che è chiuso Ma io Dice che è chiuso Ma io non mi fido Non mi fido mai Rip Ho chiesto ancora informazioni E mi hanno detto dove trovarlo Direttamente fuori dal parco Dovrebbero ancora farlo Fino a stasera Non ti devi mai Arrendere Sasha Mai Puoi aggiungere altre calorie Alla giornata Non sono mai abbastanza Esatto Cazzo Continua così Ciao Disneyland Ciao Ci vediamo La prossima volta Ciao fra A posto Grande Si becca Ma ciao Subito Ad uscire dal parco Andiamo verso Il studio Sono da quel lato Alla in fondo Io devo andare Lì a sinistra Da quel lato Per trovare la mia pizza Disney Village Secondo me è proprio là Potrebbe essere questo Disney Village No Questo fa le cose dolci È una questione di principio Va trovata questa vizzetta Di Topolino Siamo spostati all'ingresso C'è tutto un altro mondo Di ristoranti qua C'è fuori dal parco C'è anche Starbucks là Ando sta sta pizza Ho chiesto a 500 persone Ma mi hanno saputo dire Ufficialmente dov'è Lì Da Caffè Mickey Quello lì Hai One dish Prego Cosa desidera Corri la pizza di Topolino Basta Quante Caffè Mickey Due Perché è molto piccola Perfetto Ok Ha fatto un buon affare Grazie Che carino il mio piatto Ed eccola qua Non importa se adesso farà schifo Questa pizza L'importante E averla trovata E aver mangiato La pizza di Topolino Facciamo che non commento io La commenta Napoli Tieni Napoli Non basta mai mangiare la pizza L'ho apprezzata sola Ma è esattamente cruda È cruda vero? Quello che c'è sopra Non è malvagio Ho sentito almeno Sei napoletani morire In questa frase Tu hai mai mangiato La pizza giambella Che cazzo sa fare il marketing qua Faccio già la pizza giambella? Vediamo se è più buona Di quella di Topolino È più buona Indominate nei commenti Quante calorie ha In giudice Ho un pigio E in costo Perché anche ti ho mangiato Quante calorie Nei commenti Vediamo Due pizzette 40 euro Al metro ti aveva detto 25 Ti abbiamo dato uno sconto Ah però ti hanno dato pure una bottina d'acqua Pure una bottiglietta d'acqua Giusto Ma lo sapete cosa mi hanno detto Mentre pagavo Ti è piaciuta la pizza È l'italiano È la migliore pizza in Disneyland In Paris Io Che ne aggiustavo io lì? Ufficialmente questa scappatella A Disneyland Andando da Milano È finita Abbiamo mangiato tutto Se vi siete persi dei cibi durante il video Qualcosa di figo Rivedetelo Cioè guardate tutto il video Non lo schippate Non c'è bisogno Perché comunque il video è pieno di cibo Pieno di intrattenimento E spero che vi sia piaciuto Se così è stato Se vi è intrattenuto Se vi ha fatto vedere cibi buoni Lasciate like Tu fai così però Allunghi un po' la mano Dal like Ti allunghi un pochetto E clicchi pure iscriviti al canale Con la campanellina Ma Pazzesco Spero che questa scappatella vi sia piaciuta Noi ci vediamo nel prossimo video Mi raccomando restate a girare Sui miei spostamenti in giro per il mondo Su Instagram È qui Comunque Disneyland Paris Foodporn Veramente approvato Se volete vederne altri In altri posti particolari Tipo questo Scrivetemelo Qua sotto nei commenti Ciao amici La cosa che ti è piaciuto più oggi? Il Ciocococo Ciocococo col cocco E Ciocococo La cosa che ti è piaciuto più da mangiare oggi? Assolutamente la pizza La pizza finale Viva Napoli frate Vi diamo il prossimo video